La fuga rocambolesca di un detenuto 39enne albanese dal carcere di Castrogno a Teramo, probabilmente aiutato da un drone che gli ha lasciato tutto l'occorrente e da complici che lo hanno atteso fuori dalla struttura, riaccende la polemica dei sindacati, in particolare sulla carenza di personale. Le organizzazioni dei lavoratori parlano di fuga annunciata e rilanciano la richiesta di un intervento e di un sopralluogo del ministro della giustizia, Carlo Nordio. E' semplicissimo, 7 mila poliziotti penitenziari in meno, un mancato finanziamento del sistema di antiscavalcamento e soprattutto una tecnologia che avanza e il carcere, il sistema del carcere non è al passo con la tecnologia, si stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza e parrebbe appunto che l'evasione sia stata aiutata dalla tecnologia, quindi da un drone. Ecco perché è un evento annunciato, perché da tempo ormai che ci si lamenta all'interno del carcere che la tecnologia usata fuori è di gran lunga superiore ai sistemi che vengono adottati all'interno del carcere. Fin quando il ministero della giustizia non prenderà un serio provvedimento, noi potremo assistere a questo ma a tanti altri eventi con tecnologia che avanza e personale che è sempre meno. E se l'inchiesta della procura proverà a mettere ordine nella dinamica dei fatti ancora tutti da chiarire, il caso riaccende i fari sulle condizioni di sicurezza di uno degli istituti di pena più sovraffollati della regione, con un numero di reclusi che oggi supera i 400 e quello di agenti di polizia penitenziaria da tempo, ben al di sotto della pianta organica, così come era mai da anni denunciato dai sindacati. Dell'evaso ancora nessuna novità, nonostante la massiccia presenza di forze dell'ordine alla ricerca del fuggitivo. Purtroppo questa evasione era quasi annunciata, perché da molto tempo l'amministrazione, non garantendo più il turnover del personale, ha fatto sì che l'istituto terramano avesse un terzo dell'organico in servizio. Ad oggi mancano almeno 54 unità dall'organico previsto. Questo non permette la copertura di molti presidi fondamentali per l'istituto di sicurezza e per l'istituto di Teramo. Quale è la sentinella? Se ci fosse stata la sentinella presente quella notte, il fuggitivo non sarebbe potuto scappare dal terzo piano dell'istituto di Teramo, segando una sbarra.